allora ragazzi veramente siamo qua all'evento nikon vedete nikon e abbiamo con noi la nostra nikon z8 con 100 400 finalmente da provare vi dico subito che è una giornata di non aggiungo altro perché c'è una foschia un'aria che davvero non è l'ideale fotografare però ci possiamo fare un bel giretto e vediamo un po come va questa bella bestia ovviamente abbiamo il 100 400 la caccia fotografica ma non volano nemmeno le mosche quindi non lo so se riusciremo a fotografare qualcosa non mi metto un attimo qua il fresco allora il 100 400 lo conosciamo già l'abbiamo già visto quindi non sto a dirvi niente e vi parlo un po delle prime impressioni al z8 vi dico subito che dalle foto sembra più grossa invece molto piccola e molto leggere con 100 400 davvero un accoppiata fantastica vedete si porta benissimo in una mano e devo dire che davvero molto bella molto ben fatta e soprattutto a prima vista mi ricorda non tanto una z ma una reflex sembra non solo di 750 il corpo è molto simile a quelle macchine lì e adesso metto un attimo la mia scheda faccio due foto e vi dico come funziona perché purtroppo sono da solo e non riesco con una mano a registrare con l'altra a farvi vedere come va quindi la registrazione la chiudo qua ci sono 40 gradi non so se si nota e cercheremo di fare il nostro meglio